Questo dibattito si è tenuto proprio grazie all'Italia che ha preteso che se ne parlasse, che ha posto un problema che altri fanno finta di non vedere. Noi italiani invece lo vediamo bene perché già soltanto quest'anno, che non è ancora finito, sono sbarcate centomila persone. Parliamo di città come Latina, Piacenza, una nuova città che entra in Italia e che si disperderà in Italia. Già sappiamo che di queste centomila persone la stragrande maggioranza non avranno neanche diritto a rimanere in Italia o in Europa, ma non saremo in grado di rimpatriarli perché sono talmente tanti che chiaramente non siamo in grado di gestirli. A fronte di questo fallimento, che è un fallimento anche fatto di morti in mare, quindi di partenze che non dovrebbero esserci e quindi di traffici che non dovrebbero esserci, noi proponiamo un modello alternativo di buon senso, che è quello di contrastare le partenze illegali, stabilire a monte, cioè nei paesi di origine e transito, chi ha diritto e chi non ha diritto ad entrare in Europa, a chi ha diritto a garantire un passaggio sicuro e anche un'integrazione dignitosa, a chi non ha diritto invece dobbiamo dire vi aiutiamo a restare nelle vostre nazioni, di più non possiamo fare. Questa che è una posizione di buon senso, però qui a Bruxelles viene sempre tacciata di xenofobia, razzismo e quant'altro. In realtà è semplicemente buon senso.